Sì, sì, sono molto contento perché sono stati dei mesi difficili prima del lockdown però dopo sono riuscito a riconquistarmi il mio spazio e adesso è arrivata anche questa chiamata quindi sono molto contento e pronto per andare ad affrontare queste due partite. Sono contento perché sono riuscito a esprimermi al meglio in questo periodo anche dopo l'infortunio e appunto sono contento che il mister Nicolato mi abbia chiamato ancora a far parte del gruppo. Ma stiamo lavorando bene come al solito, sai in questo periodo si lavora tanto fisicamente quindi siamo un po' stanchi però è quello che serve poi per affrontare al meglio la stagione e io spero di fare una bella annata come magari è stato gli anni precedenti naturalmente è la categoria più difficile però ci metteremo alla prova e cercheremo di compattarci per raggiungere un grande obiettivo anche quest'anno. Sì certo, io sono arrivato verso la fine però ho vissuto sulla mia pelle la retrocessione e non è stata sicuramente un bel momento per tutta la città e in particolare anche per noi giocatori e ci è voluto un grande sacrificio per ritornare in questa grande categoria e cerchiamo di farci valere come è successo l'anno precedente.